Marco Rondini, qual è l'opinione della Lega Nord su questo decreto per la rigolarizzazione della legge sulle droghe? Un parere assolutamente negativo, un provvedimento che da un lato dimostra la schizofrenia di questo governo che annuncia di voler introdurre il reato di omicidio stradale per coloro i quali uccidono guidando sotto l'effetto di stupefacenti e dall'altro lato di fatto depenalizza l'utilizzo delle droghe. Un provvedimento che è stato informato da cattivi consiglieri, quei cattivi consiglieri che mirano a portare alla liberalizzazione degli stupefacenti. Non sono state neanche ascoltate e suona come uno schiaffo nei confronti delle forze dell'ordine, delle comunità terapeutiche che hanno in carico gli ex tossicodipendenti ed ancora anche nei confronti di quella parte della comunità scientifica che ha dimostrato non esserci una differenza fra droga leggera e droga pesanti e ha sottolineato come sia in realtà solamente e puramente un'invenzione giornalistica. Di più, come dicevo, è uno schiaffo nei confronti delle forze dell'ordine che, ascoltate in audizione, avevano chiesto al governo di non depenalizzare l'utilizzo delle cosiddette droghe leggere perché i due maggiori paesi mondiali a livello mondiale che producono Ashish e marijuana, che sono l'Albania e il Marocco, di fatto utilizzeranno l'Italia come paese per far transitare grosse partite di queste droghe sul nostro territorio, così come fanno già con la Spagna. E di più, appunto, uno schiaffo nei confronti delle comunità terapeutiche che sottolineavano come, anche sulla base di riscontri scientifici che ci sono, denunciavano il fatto che comunque la cannabis provoca all'organismo e soprattutto sul sistema nervoso centrale ha degli effetti devastanti. E quindi per tutta questa serie di motivi e soprattutto per il fatto che, in sostanza, depenalizzando il reato e lo spaccio della cosiddetta droga leggera, noi metteremo fortemente a rischio la stabilità, la pace sociale e la sicurezza della nostra comunità.